Pensare ad uno Stato che domini i cittadini con la considerazione che i cittadini sono al servizio dello Stato, mentre noi liberali pensiamo il contrario, che cioè sia lo Stato al servizio dei cittadini, e questo si trasforma in una politica economica delle spese e poi delle tasse per coprire delle spese, quindi spendi e tassa, tassa e spendi. Il loro programma è chiaro al riguardo perché vogliono mantenere l'imposta sulla casa così come è stata approvata, vogliono aumentare l'IVA, vogliono imporre una patrimoniale sui risparmi degli italiani benestanti.